Intanto la soddisfazione è che anche qui in Abruzzo il centrodestra stravince, anzi addirittura con un dato, almeno per quanto riguarda le cifre del Senato, nettamente superiore a quello nazionale, perché mi sembra che, almeno sulle proiezioni che riguardano le sezioni fino ad ora scrutinate e che sono in possesso del Ministero dell'Interno, parliamo di circa il 50%, 49-50%, quindi almeno 5-6 punti sopra la media nazionale del centrodestra. All'interno della coalizione, poi bisogna dire che Forza Italia sta avendo un risultato veramente straordinario, prestigioso, perché un dato nazionale che ci attesta intorno all'8, qui sembra essere, almeno per adesso, intorno al 12%, quindi addirittura 4-2 punti sopra la media nazionale, e questo ovviamente ci riempie di soddisfazione. Ci sono addirittura dei comuni dove ci sono pervenute le sezioni dove si è già concluso lo scrutino e dove addirittura siamo il primo partito, come Nocciano in provincia di Pescara e Campo di Giove in provincia dell'Aquila. Ecco, in questi comuni siamo addirittura il primo partito. Nella coalizione però Fratelli d'Italia continuano ad essere da trai, non nel centrodestra. Cos'è mancato in quest'ultimo periodo a Forza Italia per continuare ad avere la leadership del centrodestra? Diciamo che Forza Italia più o meno riscuote queste percentuali già da qualche anno. Voglio ricordare che alle elezioni europee del 2019 noi abbiamo preso poco più dell'8,5%, quindi sostanzialmente più o meno il risultato che abbiamo oggi, anzi qualcuno qualche giorno fa ci dava ormai molti o intorno al 4-5%. Invece abbiamo visto che le cose non stavano così, in questa regione invece c'è tanta voglia di centro evidentemente, di centrodestra, però è anche il risultato di una campagna elettorale basata sul territorio, su amministratori che abbiamo in tutto il territorio. Io e il capolista al Senato Lorenzo Sospiri che in questo momento si sta battendo per il terzo seggio al Senato e noi ci auguriamo che possa scattare. Nazerio Pagano se la farà a sedere in Parlamento? Io sono candidato alla Camera, come lei sa, l'ho annunciato all'inizio e lì diciamo che l'elezione si basa su dati nazionali, quindi dobbiamo attendere. Certo mi fa ben sperare il risultato di Forza Italia in Abruzzo che supera ampiamente il 10% e quindi ben oltre la media nazionale e questo dovrebbe far nascere buone speranze. Adesso ci stiamo battendo però questa notte per questo terzo seggio al Senato perché a mio giudizio c'è la possibilità che scatti a noi e quindi venga eletto Lorenzo Sospiri.